ore di febbrile attività in moltissimi comuni per valutare negli edifici pubblici e nelle scuole gli eventuali danni o conseguenze causate dalle scosse di terremoto degli ultimi giorni e che hanno provocato oltre mille sfollati e fatto ripiombare nell'angoscia migliaia di persone nel centro Italia la terra continua a tremare lo sciame sismico con scosse anche di intensità superiore a 4 si fa sentire a Fano causando oltre a qualche lieve danno alle infrastrutture una sensazione diffusa di apprensione e ansia nella popolazione i vigi del fuoco di Fano da ieri hanno effettuato oltre 25 interventi giornalieri per valutazioni di staticità in svariati edifici e hanno anche avuto il raddoppio del turno di urno fino alla giornata di domani chiusa per il crollo di alcuni calcinacci da un palazzo via Pola che collega la stazione delle Corriere a via Rinalducci fino a quando la parte lesionata dello stabile non verrà messa in sicurezza restano chiuse anche Santa Maria Nuova e San Cesario a Carrara riaperte ai fedeli invece San Paterniano e Madonna Ponte anche se nei giorni prossimi verranno effettuati ulteriori controlli transenne anche in piazza e in via del teatro a ridosso del palazzo del Podestà per una sospetta crepa proprio sotto il quadrante dell'orologio che guarda la piazza come in via Cavour dove resta chiusa in attesa di verifiche l'agenzia 2 della Carifano aperta oggi anche la residenza comunale in quanto i vigi del fuoco hanno appurato che non esistono pericoli per le persone tutte le ispezioni da parte degli uffici tecnici del comune di Fano sono state svolte e sono state svolte questo diciamo lunedì e anche questa mattina sono proseguite insieme anche in alcuni casi ai vigili del fuoco non abbiamo sono state controllate tutte le scuole del comune di Fano quelle di competenza comunale non sono stati riscontrati problemi tali da imperserirci sono stati riscontrati in questo in questi due giorni dei piccoli problemi presso la torre civica per cui con i vigili del fuoco insieme ai tecnici comunali abbiamo fatto un'ispezione sia all'esterno che all'interno della torre civica e abbiamo chiuso per precauzione via del teatro e uno stallo diciamo in piazza 20 settembre per paura di possibili cedimenti superficiali dei mattoni che potessero cadere ma solo a scopo precauzionale così come a scopo precauzionale è stata chiusa via pauli dove c'è una casa privata che destava un po' di preoccupazione altre cose da segnalare non ce non ce ne sono sono continuate anche le verifiche sulla Santa Maria Nuova che sarà riaperta a brevissimo e inoltre abbiamo avviato già i lavori per la sistemazione di alcune aree all'interno dell'edificio comunale che diciamo piccole riparazioni che andavano fatte anche a seguito diciamo delle ispezioni che abbiamo effettuato la settimana scorsa altre cose non sono da segnalare